Musica Guarda chi c'è Ospiti di Eleonora Abbiamo la nostra donata Altri ospiti Stanno arrivando Ormai a me ben noti Marco Petrillo Ti rivedo dopo tanto tempo Ti stai onorando della tua presenza Mi entro per questo evento speciale Che ogni anno ci dà sempre Tante bellissime emozioni Cose belle ed emozioni Perfetto Bravissime Eleonora Ci divertiremo Tra breve cominciano i grandi festeggiamenti Questo vestito l'ho fatto io Perfetto Come stai? Bene, tu sei splendida come sempre Tutta bella azzurra Come sei bella Smith Eleonora Alcamore Tutta dorata Etrusca E guarda qui Anche questo Che bracciale Braccialo Il corpetto E che bellissima collana Eleonora Orecchini E' favoloso Favoloso L'evento di questa edizione Storica Storica Geografica E culturale E estetica Questo ricco ed elaborato progetto di moda ed arte Dal titolo Collezione Universale Ci farà ammirare le straordinarie opere In mosaico Dell'artista Patrizia Lei è una nota ed affermata Soccultrice Come da tradizione Eleonora per ogni edizione Seleziona un artista Per realizzare un abito a tema Ed in questo abito Quest'edizione Ha scelto l'abito quadro di Aida Abdulleva Che io vorrei presentare Ti piace l'Italia? Io adoro Amo tantissimo E' un abito Che rappresenta Una donna Una donna Angelo Colore vivace Che trasmettono tutta energia Tutta gioia Come il tuo abito Quello che ce l'ho io Nella mia anima C'è Tanti colori Tanta gioia Io lavoro nel mondo Dello spettacolo E comunque Quando ho potuto Mi sono sempre dedicata E così Ho fatto quel che potevo Per aiutare gli altri Amore Tanto storia Che nelle pietà Avrima E se mio non Vemco all'appel Se lei cambia Tre fiese L'unico E se mio non Vemco all'appel E se mio non Vemco all'appel E se mio non Vemco all'appel È bello condividere le grandi emozioni Non c'è Enzo Tante persone Lo conoscono Troppo Qualche piccolo malessere Ha impedito A lui Di essere qui presente Ma siccome Vi vuole bene tutti Vi ha mandato Un messaggio Cari amici Buonasera Motivi di salute Mi impediscono Di essere a Roma E quindi Desidero Salutarvi Con Poche parole Parole che Sgorgano dal cuore Avrei voluto Essere davvero Lì Per inaugurare La mostra Di Patrizia Dalla valle Da Mecurata Denominata Ricordare il tempo Una mostra importante Una mostra ricca Che sonda Il divenire culturale Dell'essere umano Dalla preistoria Fino ai giorni nostri Prendendo E denucleando Proprio I tratti salienti Del nostro divenire Esistenziale Buonasera a tutti È vero Patrizia È quasi un anno di lavoro Tra La collezione La realizzazione Insomma L'ideazione Di questo progetto E poi Anche Tutto Tutto Quello che Che ne viene Ne consegue E quindi Adesso non voglio andare oltre Dopo Diremo tutto Vediamo subito La sfilata Si chiama Donne nel tempo La sfilata La sfilata Un'altra La sfilata La sfilata La sfilata Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.